Dovremmo sapere adattarci e non perdere di coraggio e di fiducia se le cose non vengono, parlo del livello di possesso palla, perché mi riferisco a Bisceglie che siamo andati a giocare in un campo dove era un po' al limite dell'impraticabilità e la squadra provando a giocare non ci riusciva, perdeva le sue sicurezze, le sue certezze. Quindi dovremmo fare un passo avanti da quel punto di vista, adattarci alla partita e essere consapevoli che le squadre forti si adattano, le squadre forti durante l'arco della partita non perdono sicurezza e riescono a rimanere concentrati per tutti i 90 minuti e portare a casa il risultato. Insomma, quello che mi aspetto domani è questo miglioramento, questo passo in avanti della squadra dal punto di vista mentale, dell'adattamento al tipo di partita, al tipo di campo soprattutto. Ho la massima fiducia nella società e credo che si valutano tutte le opportunità che vengono fuori dal mercato e quindi io così come si ammessi sono molto contento perché ho la massima fiducia in Lorenzo Pinzauti e ho veramente grande fiducia in Eric Gerbi e quindi sono molto contento. Poi certo, ho fiducia che la società voglia fare il meglio per questa squadra e quindi credo che si valuteranno le opportunità migliori che il mercato offrirà. Intanto è un rientrico importante perché Matteo è un giocatore importante per noi e quindi sono contento di quello. Poi sì, è un'opzione, adesso valuteremo. Contro l'Avellino abbiamo fatto una bellissima partita e quindi cercherò di toccare il meno possibile gli equilibri in virtù di questa nuova partita. Nell'ultimo periodo non è venuta la vittoria per molti fattori che tutti abbiamo vissuto questa storia del terra, ma io credo che adesso ci siamo ritrovati. La squadra si è ritrovata, ha ritrovato la sua caratteristica principale, si è visto con l'Avellino. Io sono convinto che se noi andiamo a Viterbo a giocare con quell'intensità possiamo fare una bella partita, quindi rimango dell'idea che è stata fatta un grande girone d'andata. Non giudicherei male un giocatore che vuole andare via perché gioca poco, ognuno fa le sue scelte. Io credo che a Teramo deve rimanere gente motivata che ha voglia di sporcarsi i pantaloncini, ha voglia di correre e che abbia veramente voglia di stare qua a credere in questo progetto, perché secondo me è un progetto importante. E poi spero che rimangano i giocatori, perché ho massima fiducia in loro, spero che non vadano via, però capisco tutto, capisco. È una fase di mercato in cui gli scontenti possono trovare soluzioni.